Il ballo che vedremo adesso, ballo della mattonella, ballo della mattonella, timballo, ballo poi lupi, tirare in ballo, bibi ballandi, ballo del quacqua, tango, ballo di san vito, ballantaine e balla laica. Allora sarà uno di questi balli, lo devo dire adesso che è il tango, no prima devi vedere il filmato, vediamo il filmato dal vivo, filmato dal vivo. Tango! 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 Ecco qua! Ecco, c'era un problema col papi o. Allora, il concorrente del sud, il signor Alberto. No.